Musica Probabilmente molti di voi si staranno chiedendo come fa un ragazzo così giovane ad essere speaker al TED? Cosa avrà fatto? Come avrà fatto? Vedete, per rispondere a tutte queste domande dobbiamo tornare indietro nel tempo di circa 24 mesi. Avevo 19 anni, la mia era una normalissima vita di un comune liceale passata tra i banchi di un liceo scientifico nella periferia di Roma e tra i piccoli grandi problemi che i ragazzi di quell'età hanno i primi amori, portare dei bei voti a casa e che fare il sabato sera c'era anche quello di che università scegliere una volta preso il diploma. Io mi ricordo che un giorno una mia compagna di classe si presentò in aula con un documento che illustrava quelle che erano le migliori università in Italia inserite in una classifica. E ho notato che tutti i compagni di classe, me compreso, l'avevamo accerchiata perché la scelta dell'Ateneo era influenzata dalla posizione che questo aveva in quella classifica. Si può dire che la mia avventura, la mia storia è iniziata proprio in quel momento perché in quel momento avevo avuto un'idea. mi chiesi, se i ragazzi hanno dei benefici nel consultare una classifica di università per scegliere l'Ateneo, allo stesso modo un'azienda potrebbe avere dei benefici nel consultare una classifica di studenti. Creare una classifica di persone per trovare, per aiutare le aziende a trovare i migliori talenti. Ma come si fa a creare una classifica di persone? Mi risposi che bisognava dargli un punteggio. Però come fai a dare un punteggio? L'unica cosa che si può valutare è il curriculum. Quindi dovevo dare un punteggio al curriculum. Però che cosa fai? Realizzi un'intelligenza artificiale che ti legge tutti i curriculum degli iscritti? È impossibile. Dovevo rivoluzionare quello che era il mercato del reclutamento online. Quindi decisi di, insomma, ideai questo portale che non faceva inviare il curriculum ma lo faceva compilare online utilizzando le nuove tecnologie permesse dal web. In questo modo il sistema avrebbe immagazzinato delle variabili e attribuito con degli algoritmi un punteggio. Il risultato sarebbe stato un database di persone con i CV graficamente uguali, tutti aggiornati e le aziende avrebbero avuto i risultati della ricerca delle risorse indicizzati. Wow! Era sicuramente una bella idea e nessuno ce l'aveva avuta. Quindi mi dissi devo essere il primo. E in quel momento mi sentivo un pochino cambiato. Ero sempre il ragazzo del liceo, il comune liceale. Però dentro di me si era mosso qualcosa perché avevo un obiettivo, realizzare quel portale. È come se per un momento avessi alzato un po' la testa per vedere più lontano rispetto ai miei compagni. Le mie esperienze nel mondo del business erano inesistenti. Sapevo programmare un pochino, l'avevo imparato da autodidatta alle scuole medie. Però non sapevo nulla di server, di database, di management, di grafica. Forse le uniche due cose che avevo erano una buona idea e la testa dura. Decisi quindi di contattare delle società in internet, delle web agency per avere dei preventivi e vedere quanto costava creare un sito del genere. Bene, i preventivi che ricevevo erano di centinaia di migliaia di euro. Oltretutto io avevo iniziato a parlare della mia idea alle persone a me vicine che non capivano. e mi dicono Matteo, non ti concentrare su questo, concentrati sulle cose importanti. Concentrati sulla scuola. Io non la volevo lasciare la scuola, io volevo solo di più. Però, centomila euro erano troppi, soprattutto per una famiglia normale. Quindi, dovevo trovare il modo di realizzare questo sito. Decisi di trovare una via alternativa, quella di creare un team di giovanissimi che credevano nel progetto e che quindi realizzassero il sito insieme a me. Con un pizzico di fortuna e un po' di passaparola sono riuscito a trovare quei pochi ragazzi giusti e abbiamo dato inizio allo sviluppo. Il budget che avevamo a disposizione era veramente limitato. Parliamo di poche migliaia di euro. All'epoca non sapevo niente di business angel, venture capitalist, investitori. Sono andato dalla mia famiglia e gli ho detto voglio realizzare questa cosa e fortunatamente hanno creduto in me e con un po' di sacrifici mi hanno dato quei pochi soldi. Però, subito si presentano i primi problemi. Perché il tempo di sviluppo del sito era più lungo del previsto. Era un portale veramente molto complesso. E poi io avevo un problema. Il problema era che al momento del lancio, per quanto l'idea fosse una buona idea, perché le società si sarebbero dovute iscrivere se non vi erano candidati e viceversa. Perché una risorsa, una persona doveva registrarsi al sito se non c'erano le aziende quando la finalità era metterli in contatto. A quel punto capii che prima del lancio dovevo far registrare qualche azienda per invogliare i ragazzi poi a iscriversi. Battezzai il sito Egomnia. È un neologismo latino nato dalla fusione delle parole Ego, Io e Omnia. Tutti, tutte le cose. E iniziai a mandare decine di mail alle società che trovavo online dicendo sono un ragazzo di 19 anni e ho questa idea che sto realizzando. Potete ascoltarmi? Il risultato fu sconcertante perché nessuna società rispose alle mie mail. Oltretutto il tempo di sviluppo del sito si era allungato a un anno e il budget stava per terminare ed ero consapevole che nessuna azienda si sarebbe iscritta prima del lancio. In pratica stavo nella merda. Però nel frattempo io mi sono trasferito a settembre di quell'anno a Milano a studiare economia. Anche io scelsi la prima università presente in quella classifica la Bocconi e decisi di cambiare strategia non potevo andare dall'azienda perché i risultati non li avevo ottenuti dovevo partire dal basso cioè andare dagli studenti. Mi recai subito al media center quindi il giornalino degli studenti la radio dell'Ateneo e il canale YouTube dei ragazzi e gli raccontai la mia storia facendogli vedere anche il portale che ancora non era terminato. Devo dire che i ragazzi dell'università mi hanno aiutato moltissimo sia nel terminare il sito e in più mi avrebbero garantito la promozione sui social una volta lanciato Egomnia. per la prima volta nel mio percorso avevo intravisto uno spiraio di luce e quello che stavo facendo e la mia storia colpiva il cuore dei miei coetanei a quel punto io mi resi conto che non avevo soldi tanto più perché tra le spese dei miei c'era una retta importante universitaria non avevo un business plan non avevo un numeroso team non avevo esperienze però quello che stavo facendo piaceva quindi non potevo mollare ebbene 24 mesi dopo quel periodo egomnia.com è una delle più grandi realtà italiane nel mondo delle risorse umane abbiamo un portale che sta per raggiungere le 300.000 persone e sono 700 le aziende che hanno aderito e utilizzano la piattaforma tra cui moltissime multinazionali il fatturato ha raggiunto sin da subito i 5 zeri abbiamo realizzato software per la gestione del grazie abbiamo realizzato software per la gestione del personale per la gestione delle candidature e per il wellness aziendale ho aperto in Brasile e prima della fine di quest'anno aprirò in Asia con base a Singapore la mia faccia fortunatamente ha fatto il giro del mondo ho ricevuto la medaglia d'oro e il diploma d'onore dalla provincia di Milano ho avuto la possibilità di parlare al TechCrunch ed eccomi oggi al TED che cosa è cambiato dal Matteo Achilli liceale al Matteo Achilli che vi sta parlando non è cambiato nulla io rimango lo stesso ragazzo che ero 24 mesi fa pieno di ambizioni e di paure che però ha avuto una grande possibilità quella di di conoscere se stesso e di scoprire quelle che sono le sue carte ognuno di noi ha delle carte da giocare e quindi ho capito che non c'è bisogno di conoscenze esperienze o soldi per raggiungere un obiettivo i due requisiti sono avere appunto un sogno un obiettivo e due conoscere se stessi le mie carte o una delle mie carte era proprio la giovane età e io l'ho capito lavorando perché soprattutto nel mio settore il mondo del digitale non ci sono non ci sono esperti non c'è la storia si sta si sta scrivendo adesso la storia quindi non sono esperti coloro che hanno i capelli brizzolati e questo sicuramente ha giovato a mio favore i veri esperti di internet del digitale non hanno i capelli bianchi e voglio raccontarvi un piccolo episodio che è successo che mi è successo e che permette di capire quanto a volte ha giovato a favore la mia età sono stato invitato poco dopo il lancio di Egomnia da una grossa società di Edhunting in un bello hotel al centro di Milano per questo evento a cui ha partecipato un'importante persona forse uno degli uomini più potenti della terra parlo di un amministratore delegato Mondo di una delle più grandi aziende del mondo americana con un fatturato di 150 miliardi di dollari e c'erano moltissime persone io però ero il più giovane e dopo averlo ascoltato parlare tutta la sera di economia delle sue esperienze di come funziona una grossa società americana decisi che era arrivato il momento di fare un intervento per avere la sua attenzione chiesi la parola mi alzai e gli dissi premessa la cosa che mi aveva colpito era che lui se non altro per via anagrafiche ha spiegato che stava per abbandonare il suo incarico all'interno dell'azienda io gli dissi quando la società per cui lavori ti riterrà troppo maturo per lavorare come amministratore delegato ti assumo io questo provocò delle risate sicuramente tra i partecipanti l'organizzatore dell'evento mi presentò quasi scherzando dicendo lui è Matteo Achilli il nostro Zuckerberg e appunto questo amministratore delegato venne da me mi diede il suo obietto da visita e mi disse quando diventerai veramente lo Zuckerberg italiano verrò a lavorare per te vedete l'Italia è un paese bellissimo fatto da gente eccezionale ha però qualche problema dalla burocrazia ha ogni tanto qualche qualche mentalità particolare questi problemi allontanano i giovani dall'Italia e e questa è una cosa che non deve assolutamente accadere questa è una cosa che non deve assolutamente accadere tant'è che io ho due sogni ho due grandi sogni premessa è importante ricordare che mentre io sto parlando il 50% dei ragazzi della mia età non lavora a casa i miei due sogni sono uno professionale e uno personale quello professionale è quello di portare Egomnia a diventare una delle società di riferimento nel mondo delle risorse umane mondiali siamo forti in Italia nel design nella moda e nella cucina ma siamo una periferia del mondo digitale nel mondo di internet l'altro sogno è forse ancora più ambizioso ed è quello personale io voglio rivolgermi direttamente ai miei coetani alla mia generazione raccontando di me parlando di me di quella della mia esperienza che dal niente sono riuscito a trovare lavoro ad oggi a centinaia di ragazzi e 20 lavorano nella mia azienda azienda che è al 100% mia e al 1000% italiana parlare della mia storia affinché la storia di Matteo Achille e De Gomnia non sia come forse adesso purtroppo un qualcosa di atipico ma diventi la normalità quella di avere successo in Italia vedete ad oggi quell'importante persona quell'importante amministratore delegato ancora non lavora ancora non lavora per me nella mia azienda però nel frattempo qualcosina ho fatto grazie 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 grazie